Salve a tutti ragazzi e ragazze dal vostro Darkgaos92 E ovviamente d'archini e darchini grazie sempre per tutto il supporto che mi donate giorno dopo giorno Quelle poche persone che mi donano tutto questo supporto Perché praticamente volevo, con questo piccolo video, volevo farvi capire quanto siete ipocriti Perché voi andate a iscrivervi nei canali dei mates, degli Illuminati Crew E comunque voi date la visualizzazione, non vi lamentate di niente Perché loro parlano, no? Parlando continuamente tagliano i pezzettini di video dove comunque non si parla Perché devono portare più contenuti e comunque più... Cioè quando comunque loro parlano vi intrattengono, quindi più intrattenimento In questo caso io ragazzi mi sono leggermente rotto le palle di tutte quelle persone che sono iscritte al mio canale E non seguono più ovviamente il mio canale Scusate se ribadisco di nuovo canale, 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 dico continuamente canale Ma questo video non mi metto neanche a ditarlo, non mi metto neanche a spezzettare i piccoli puntini dove dico Eh, 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 perché non mi interessa Perché voi non riusci... Cioè quando una persona entra sul YouTube Ha quella cosa di dire Ora entro su YouTube e mi diverto con le persone che comunque mi seguono Ok, un canale da 5.000 iscritti come il mio, ok Arriva a 5.000 iscritti e pum Tutti gli iscritti non ci sono più Fa le live due spettatori Quattro, massimo sei, a volte otto nove Quindi ragazzi io vi chiedo gentilmente a tutti coloro che sono iscritti al mio canale Ma non mi seguono né le live, né i video, né niente Anzi, proprio zero totale Iscritti al mio canale che non mi seguono per niente Disiscrivetevi tutti Anche se io ritorno con 5 iscritti non mi interessa niente Però so che quei 5 iscritti sono attivi Non vi metto né canzoni di sottofondo in questo video, né niente Lo uppo direttamente Anzi vi metto una miniatura così tanto a cazzo Tanto per farla Perché mi sono veramente rotto le palle Io ci sto male per questa cosa Perché io, una persona che sta su YouTube E comunque fa le live Cerca di intrattenere Cerca di spendere del tempo per altre persone Per far divertire altre persone Ma quando io vado in live e mi trovo due spettatori Mi rode veramente il cazzo Sti cazzi, le restrizioni non mi interessa niente Io farò questo video E vedrò quanta gente veramente è attiva sul mio canale In questo video io voglio Che la gente attiva Ok? Che la gente attiva metta like La gente inattiva Metta dislike E se ne vada fuori dai coglioni Nel senso che si deve disiscrivere Perché questa gente Io non la voglio Grazie E ci vediamo con una nuova Lele Con una nuova live O un nuovo video A presto Ciao E che cazzo E uno ogni volta si deve incazzare Baffanculo Oh